Bolzano, quartiere di Oltrisarco Aslago. Ancora una volta la cooperativa Solution, grazie al progetto MIS Mobility In-Situro, protagonista sul territorio provinciale e a sostegno delle fasce più deboli. Il concetto è tanto semplice quanto importante, raccogliere fondi attraverso il coinvolgimento dei privati per riuscire ad acquistare un mezzo adibito al trasporto anche di persone con disabilità. L'obiettivo di questo progetto, Mobility In-Situro, è quello di dare possibilità a tutte le persone di essere mobili e di poter muoversi in tutta tranquillità e serenità, grazie a un mezzo attrezzato per il trasporto di disabilità. I fondi raccolti non solo vengono utilizzati per l'acquisto e l'allestimento del mezzo, ma anche per le spese di ordinaria gestione e manutenzione per un arco di 4 anni. Il mezzo viene poi consegnato all'ente pubblico punto di riferimento sul territorio, in questo caso il distretto di Oltrisarco Aslago dell'azienda Servizi Sociali di Bolzano. Questa iniziativa è molto importante perché mette assieme dei privati cittadini che hanno delle imprese e delle aziende e che donano un mezzo a un servizio sociale, in questo caso qui, quindi al distretto, che praticamente aiuta la popolazione del quartiere di Oltrisarco, quindi l'importanza è proprio il mezzo in sé, in quanto strumento di lavoro, ma anche il gesto che è stato fatto. Noi facciamo servizi agli anziani, quindi anche portatori con le carrozzelle, portatori di handicap, portiamo disabili e per questo motivo a noi il mezzo è molto utile, per noi il mezzo è molto utile. La consegna degli attestati a coloro che hanno deciso di aderire all'iniziativa è il giusto ringraziamento anche da parte dei vertici dell'amministrazione comunale del capoluogo. L'assessore alle politiche sociali, Sandro Repetto, ha sottolineato il valore di questi progetti capaci di coinvolgere i cittadini per aiutare l'ente pubblico a svolgere servizi indispensabili per la collettività. Perché è una situazione abbastanza particolare nell'ambito della nostra comunità in cui i privati aiutano il pubblico nell'esercizio quotidiano, diciamo, nell'ambito, in questo caso nell'ambito del sociale. Il distretto sociosanitario, distretto sociale di Oltrisarco ha tutta una serie di utenze, ha una serie di servizi che vanno dagli anziani ai servizi handicap, ai servizi di case di riposo e per cui in questo ambito è opportuno che ci sia anche il privato che ha dei rapporti, delle relazioni anche di lavoro con l'ente pubblico che interviene e aiuta con una donazione che non è solo una donazione di denaro ma una donazione in cooperativa in questo caso con più aziende con un mezzo che può essere d'aiuto per tutte le attività del distretto stesso. Questo per noi è un segnale molto forte, è un segnale importante, è un segnale di grandissima solidarietà e che c'è una comunità che è sempre pronta ad aiutare il prossimo. Tutte le informazioni sul progetto MIS Mobilität in Südtirol sono a vostra disposizione sul